A che punto sono le altre opere olimpiche? Abbiamo attenzione sul Pala Italia di nuovo dovuto alla logica dei costi. Abbiamo riunioni continue anche con chi lo poi lo gestirà, questa società tesca che gestisce impianti, ci denunciano un aumento dei costi in quel caso del 30%, però penso che risolveremo la questione. Ci stiamo lavorando ovviamente con grande attenzione. Sul Palashar abbiamo ridotto dei rischi giudiziali che avevamo, stiamo discutendo con le suore. Capisco, anche giustamente si lamentano per questioni relative al rumore, però anche da quel punto di vista credo che lo risolveremo.